amici di youtube buongiorno oggi siamo in questa location clamorosa siamo alla basilica di superga torino in compagnia di una 500 x ultimo modello che è stata nostra compagna in questi giorni l'abbiamo noleggiata per una piccola vacanza non vi parlerò dei dati tecnici perché la conoscete tutti una macchina strarivista una delle più comuni dopo la fiat panda ma voglio parlarvi delle mie sensazioni delle mie idee su questa fiat 500 x che abbiamo avuto modo di testare in questi giorni colorazione molto figa tra l'altro è cambiato anche il logo della 500 è molto molto più futuristico è cambiato anche un po il paraurti con i fari molto molto bene ci siamo comportati bene in quest'ultimo frangente di periodo i cerchi soliti soliti della 500 x ma voglio parlarvi dell'interno che secondo me ha avuto un po un po di cambiamenti vabbè questo è l'allestimento sport che diciamo è uno dei più comuni anche se devo dire che in una 500 x inserire la parola sport secondo me è un po insomma un po troppo perché comunque non parliamo di prestazioni a proposito di prestazioni vi volevo parlare di della trazione perché noi siamo stati in montagna diciamo non abbiamo avuto molto osare perché appunto la trazione di questa fiat 500 x non permetteva tanto vieni qua dentro vieni qua dentro che gli facciamo vedere innanzitutto questo volante quindi volante tagliato togliamo altrimenti ci danno il copyright volante tagliato con impunture rosse che mi piace mi piacciono davvero davvero tanto la macchina è a benzina quindi da questo punto di vista io in realtà all'inizio non lo preferivo tanto perché queste tipologie di macchine io le prenderei a diesel però ormai con con tutte le nuove normative e quant'altro ma si stanno un po di quanto tutti al benzina display classico della 500 x fino a stazionamento elettrico per vedere questo tunnel centrale per vedere questo tunnel centrale che in un simil carbonio solito insomma logo x due porta bibite per esempio cosa che ho sempre la mia solita pecca sono due prese usb di tipo b neanche una presa usb di tipo c clima bizzona sensori di parcheggio che funzionano davvero davvero bene un solito e quattro frecce start and stop il airbag ecco vabbè il solito e classico display della 500 x da questa parte invece abbiamo un piccolo porta oggetti che rimane sempre piccolo logo della 500 da questa parte invece non cambiano i materiali qua è cambiato questa cosa qui insomma per accenderla o spegnerla che è diventata un po più un po più rinomata e quant'altro da questa parte addirittura abbiamo la chiusura centralizzata cosa che prima c'era semplicemente dall'altra parte da questa parte facciamo vedere questo simil carbonio porta oggetti porta bibita quanto riguarda gli specchietti abbiamo da questa parte chiusura centralizzata gli specchietti da questa parte molto molto bene questa cromatura questa qui una cosa che non abbiamo detto chiusura centralizzata che il s che non mi sto facendo vedere perché non sono sicuro di avere le chiavi a portata di mano in ogni caso vi faccio vedere i sedili sedili con questa in puntura rossa sempre che a me piace davvero davvero tanto però per il resto non è cambiato bene o male nulla da questa parte abbiamo il supporto lombare e questi sono i vari settaggi manuali battitacco con il nome 500 x i settaggi per invece fari l'ondità e dimensione vi faccio vedere il dietro io sono un 80 la finestra d'ingresso non è comodissima questo disegno non è davvero comodo però devo dire che ovviamente non sto proprio comodo qui ci sono tre dita circa di spazio ovviamente la persona che sta al centro non starà mai comodissima una presa usb non abbiamo disponibilità di clima trizona vi faccio vedere l'unotto posteriore oscurato vetri privacy solo nell'allestimento sport qui il logo 500 x ben rifinito nero mi piace il logo fiat è cambiato i fari sono rimasti sempre gli stessi una cosa per esempio che mi piace che però non è cambiata granché è il fatto che abbiano messo i due terminali a destra non sono sicuro del fatto che prima erano a sinistra però tipo questa cosa la eviterei in una macchina che non nasce per prestazioni lo toglierei ovviamente il portabagagli non è elettroattuato questa è la capienza ci sono entrate due valigi da due chili e una di 10 chili però dentro ovviamente i sedili sono abbattibili una porzione da due e una porzione singola per il resto ragazzi vi posso dire che siamo trovati abbastanza bene noi eravamo tre uomini due di altezza 1 80 e 1 1 e 90 ovviamente la persona che sta davanti che era 1 e 90 si doveva ritirare un po in avanti perché vieni vieni con me perché non avevo troppo spazio qui abbiamo il classico tappo per la benzina che per esempio questa cosa non mi piace guardate è attaccata addirittura al vano del rifornimento cosa che praticamente una persona potrebbe tranquillamente entrare e tra virgolette prelevare la benzina da questa parte cosa che non mi piace di un'apertura qui sulla Keyless è il fatto che ci debba essere da entrambe le parti per me quindi da questo punto di vista una pecca avrei inserito anche paraurti e minigonne nere a contrasto ma tutto sommato ci siamo avrei messo magari un logo 500 x o fiat anche sui tappetini anteriori ma tutto sommato niente male fai vedere innanzitutto la location di oggi che clamorosa noi siamo abituati a fare i video al sud però ne abbiamo approfittato per fare una mini recensione qui oltre ad aver guidato mare volte in questa vacanza questa macchina sono stato anche possessore precedentemente della 500 x non sport perché lo sport è stato aggiunto successivamente per quanto riguarda quindi la trazione avendo una trazione anteriore e nella sfruttata soprattutto in montagna non era molto affidabile e sicura innanzitutto per il cambio perché ad esempio le salite non potevano essere fatte in terza quindi a volte mi sentiva mettere addirittura la prima marcia e per quanto riguarda la trazione attraversando tornanti molto tortuosi la macchina slittava e quindi non dava grossa aderenza su strada per quel che riguarda l'audio e l'infotainment della macchina non è cambiato notevolmente dalla precedente quanto riguarda quindi l'audio interno dell'abitacolo è un audio comune però non non di scarsa qualità per quel che riguarda il volante il logo centrale a differenza dell'esterno non è stato cambiato bello sotto il taglio ma soprattutto dove vengono posizionate le mani è stato inserito questo materiale diverso dalla parte superiore parte inferiore aveva alcantara molto sensibile molto aderente al tatto e crea una sensibilità maggiore io che sono un amante dell'alcantara approvo la scelta di inserimento ma vi dico non so quanto l'inserimento di un materiale così particolare all'interno di un modello comunque base possa avere un senso perché io sono dell'idea che comunque chi acquista un modello del genere non lo acquista per i materiali pregiati non lo acquista per la sportività e quant'altro quindi io sono dell'idea sia alcantara figo però andrebbe inserito su altre tipologie di auto ovviamente però io che fanno dell'alcantara avere per esempio anche per tre quattro giorni questo materiale non è stato malissimo per quel che riguarda quindi questa recensione abbiamo voluto approfittare di questa tipologia di auto di questo tipo di tipologia di modello che ci hanno fornito e il mio consiglio è naturalmente di acquistare quest'auto perché oltre a rendere sportività e dinamicità alla guida è un'auto che può essere utilizzata tutti i giorni sia per la sua comodità per le grandezze perché non è molto ingombrante ma soprattutto per i consumi che ne consegue da questo video youtube e dalla 500 x è tutto mi raccomando mettete like iscrivetevi e commentate se questa accensione vi è piaciuta alla prossima